In questa legge di stabilità abbiamo cercato di fare delle proposte correttive in modo che potessero andare ad aiutare i risparmiatori. I risparmiatori che ultimamente con il decreto banche sono stati fregati perché si sono visti azzerare i risparmi di una vita. Abbiamo fatto diverse proposte emendative che andavano ad aumentare il fondo di ristoro per questi risparmiatori. Abbiamo fatto proposte emendative dove chiedevamo il divieto di vendere titoli tossici. Ovviamente la risposta di Renzi è stata no. Ma perché no? Perché ovviamente vediamo che gli fa comodo.